Ancora in callo e ricoveri ai contagi nelle marche, in sei mesi raddoppiate le USCA e assunte 600 persone per le cure a domicilio. Coprifuoco, pochi spazi, l'incognita del tempo, non a tutti conviene riaprire a Fano, c'è chi preferisce aspettare la fine dell'estate. Per questione diciamo di calcolo, matematica, abbiamo calcolato bene quello che si può guadagnare e quant'altro, non ci conviene assolutamente farlo, non ci sono proprio i presupposti. Installa i paraventi all'esterno del ristorante ma i condomini protestano e chiamano i vigili urbani la rabbia del titolare che ha tutto regola, sono solo invidiosi. Che poi dico anche non è giusto che la gente deve passare qui nel mezzo col cagnolino che la gente che mangia, allora capito ci sono delle cose che non va bene, poi noi attenzione, noi sto solo pubblico, pago eh, io lo paghiamo. Da domani a Pesaro, film gratis ma alle 19 per festeggiare la ripartenza, i cinema riaprono i battenti ma non tutti, Massimiliano Giumetti è critico sui protocolli, troppe restrizioni e poche pellicole sul mercato, ritorna al cinema all'aperto e da fino agosto anche quello al chiuso. E' arrivata la conferma, sotto il complesso di Sant'Agostino a Fano ci sono i resti di un Tempio della Fortuna collegato al Teatro Romano. Sono l'annuncio della sovrintendenza e del sindaco Sere che hanno illustrato gli esiti dell'indagine archeologica. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, in primo piano questa sera la riapertura di bar e ristoranti, le nuove regole non piacciono a molti imprenditori e c'è chi preferisce rimanere chiuso e aspettare la fine dell'estate. L'ostacolo del coprifuoco e i tavoli soltanto all'aperto, sempre sperando che non piova, come oggi. Sono diversi i limiti e le regole da rispettare per la riapertura di bar e ristoranti. In tanti hanno deciso di riprovarci, nonostante tutto, nessuna speranza, invece per chi non ha gli spazi adeguati. D'altra parte poi c'è anche chi svolge un'attività stagionale e al posto di recuperare nei mesi estivi, come avvenuto lo scorso anno dopo il lockdown, ha deciso al momento di non riaprire. Riaprirete il vostro locale? Per quest'estate no, perché non ci sono i numeri per tutto l'affare, sia per i coperti che possiamo mettere fuori, che sono un massimo di 14, e poi per gli orari che sono proclamati per luglio, per cui chiudendo le 10 non c'è. In più il nostro locale è un locale invernale. Essendo un locale invernale è stato costruito da settembre a maggio, fino alla fine di maggio, perché possiamo ospitare, come vedi, avendo tanto spazio, la clientela che ha l'igenza invernale. Quindi riaspettate alla fine dell'estate? Purtroppo sì, per questione di calcolo, matematico, abbiamo calcolato bene quello che si può guadagnare e quant'altro, non ci conviene assolutamente farlo, non ci sono proprio presupposti. Inoltre, ci racconta Valentino, non è così piacevole bere e mangiare qui all'aperto, infatti il locale che sorge nell'ex chiesa di Santa Maria della Maddalena, divenuta poi un convento per orfanelle, dà su Via Nolfi, che nonostante sia una strada accessibile soltanto da coloro che hanno il permesso per il transito in ZTL, è molto trafficata. Avete subito un danno economico importante in questi mesi? Avendo perso la stagione settembre-ottobre, che avevamo chiuso il punto fino a mezzanotte, ma poi prendendo novembre, dicembre, gennaio e tutto l'inverno, noi abbiamo perso il 90% di quello che noi facciamo, del nostro business plan, del nostro fatturato base. Per cui su questo ha mortificato l'azienda, perché ovviamente poi è stata rifinanziata da noi, di soldini sono arrivati pochi, ma molto molto pochi, e si è fatti con le proprie mani, ci siamo stati abbandonati. E credo che al fine dei conti la storia di un giorno ci dà la ragione, con amare soddisfazione, il fatto che comunque tenere chiusi i locali dove c'era garantita l'igiene non è poi servito a nulla, perché i numeri ancora attualmente sono molto molto negativi. Nel frattempo si è semplicemente massacrata un'economia. Oltre ai sei dipendenti lasciati a casa, prosegue Valentino, qui le spese fisse non si sono mai fermate, siamo stati abbandonati. Però poi i bollettini da pagare arrivano uguali, sono un anno che sono chiuso e ho 2400 euro di tasse di immodizia da pagare, non abbiamo prodotto nemmeno un sacchetto di carta in un anno, cioè già per dire simbolicamente parlando queste cose qui dovrebbero essere almeno cancellate o soppresse per il momento. Siete comunque ottimisti e fiduciosi per la riapertura? Certo, non possiamo non esserlo, perché qui si è lavorato quattro anni, si è lavorato anche molto bene, è vero che le cose non sono andate bene per niente quest'anno, individamenti ci sono stati, siamo stati esposti a enormi situazioni negative, però la voglia e la professionalità da parte della mia squadra di lavoro, da parte della mia società, dei soci che ho, è quella di essere pronti a settembre per fare quello che noi sappiamo fare bene. Ci credo, ci credo perché c'è una sensazione che hai fatto qualcosa di buono e quello non ce lo ruverà mai nessuno, almeno questo non ce lo possono rubare, però è anche vero che da qui a settembre dovremo essere pronti e anche sistemati da un punto di vista di posizione economica, perché comunque gli dipendimenti ci sono, i pagamenti arrivano ovviamente da pagare e speriamo che questi decreti famosi arrivino veramente, che arrivino altri soldini per poterci dare una mano. In televisione ci sono tante promesse e noi andiamo avanti soltanto con i nostri soldi, quindi aspettiamo tutto il settembre, sperando che passate una buona estate in altri lì, in altri posti e le orfanelle a settembre pronti per voi, scogli orari magari giusti. Ci spostiamo adesso a Pesaro dove Angelica Panzieri ha raccolto lo sfogo di un ristoratore che subito dopo aver installato i paraventi nel suo locale si è visto arrivare i vigili urbani. A chiamarli sarebbero stati alcuni condomini che lamentano la mancanza del passaggio. Ascoltate. Doveva essere un giorno felice quello della riapertura per Rosario Catone, titolare della bruschetteria da Cato in Baia Flaminia, e invece si è trasformato in un incubo. I paraventi rimovibili utilizzati dal ristoratore per proteggere i tavoli allestiti all'esterno del suo locale sotto il portico non sono passati inosservati ai condomini dei palazzi circostanti che avrebbero lamentato proprio in quell'area la mancanza di passaggio. Così alle 18 di ieri hanno pensato bene di mandare la polizia municipale a fare i controlli, la quale però non ha ravvisato nessun tipo di anomalia nell'allestimento del ristoratore. Oggi, di fronte alle telecamere di Fano TV, lo stesso Catone si è sfogato, protestando proprio contro quei vicini che non lo hanno fatto lavorare nel giorno della ripartenza. Ieri cosa ho fatto? Io naturalmente ho messo questi paraventi, però io sto attento, siccome che ci tengo alle persone, perché comunque non ho mai guardato solo nel mio orticello, quindi voglio specificare che ieri quando ci sono avuti i controlli hanno trovato chiuso, ma ho finito di montare alle 5.35, alle 6.10 già c'erano i controlli, che ripeto, loro sono stati gentilissimi, fanno il loro lavoro. Niente, solo che come funziona? Io ho fatto in questo modo, naturalmente l'ho diviso, che quando c'è molto vento, naturalmente prendo questo pezzo, che è movibile, e me lo metto per quelle tre ore a cena o due ore a pranzo, perché poi dico anche non è giusto che la gente deve passare qui nel mezzo col cagnolino, che è la gente che mangia. Allora, capito, ci sono delle cose che non va bene. Poi noi, attenzione, noi sto solo pubblico, pago, noi paghiamo. Adesso diamo quest'anno che comunque ce l'hanno abbonato, però noi paghiamo. Però, ok, quindi naturalmente cosa funziona? Chiedo la sera, stasera, quando chiudo alle 11.30, come stamattina, questo, si sposta, lo tolgo, lo metto dentro, ok? E quindi, allora, la mattina comunque, quando io sono chiuso normalmente, ho lasciato lo spazio. E qualcuno ha avuto il coraggio di protestare e mandarlo? Sì, protesto, subito, che dopo, quella roba lì che io proprio non concepisco, anche sto buon senso, dopo otto mesi che sono chiuso, otto, ma anche maggio, è come se fossimo chiusi, perché, ragazzi, non mi prendete per il c***o, col tempo così, il contentino, capito? Però, c***o, non ce la faccio più, anche sto buonissimo, ci sono sempre sto buonissimo, per forza che dovessero essere tutti buoni, però dentro, capito, e gente come me ce n'è tanta. Quando sono venute a farli controlli, la polizia municipale le hanno detto che lei era in regola. Sì, sì, no, no, assolutamente, io comunque ho fatto la mia domanda, ho il permesso del solo pubblico, ed io non ho fatto altro che metto... Ho messo, c'è nella domanda, si chiamano paraventi, l'altezza 1,70, come dice la legge, movibile, come avete visto, è tutto movibile, ok? Oggi, voglio dire comunque al governo, ok? A Draghi e tutti quanti, oggi sono aperto, ho dovuto chiamare il cuoco che era contento, una persona, un'altra persona oltre me, e proprio io poi sono piccolo, però due persone. Oggi chi c***o, diciamo, chi è che le deve pagare? Cosa fanno oggi? Chi c***o viene a mangiare? Quindi non so, svegliatevi, diciamo, comunque la gente come noi, ce n'è tanta come me, è stufa, siamo stanchi, siamo stanchi. E sono cinque i decessi legati al Covid che si sono verificati nelle Marche nell'ultima giornata, tra le vittime anche due anziani di 78-79 anni, rispettivamente di Fano e Cartoceto. Invece i nuovi positivi sono 223, in testa le province di Macerata con 69 casi, e Pesor Urbino con 65. Negli ospedali delle Marche si registra un altro calo dei ricoveri, meno 25 rispetto a ieri, ma la maggior parte nei reparti non intensivi. I pazienti in terapia intensiva scendono a 66, mentre quelli in semi-intensiva a 136. E in sei mesi sono quasi raddoppiate le unità speciali di continuità assistenziale, sono state assunte più di 600 persone per potenziare i servizi. E' quanto ha sottolineato oggi l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, rispondendo ad alcune interrogazioni in Consiglio regionale. I quesiti in aula sono stati l'occasione per fare un bilancio delle attività delle USCA, le squadre formate da medici e infermieri, che in questo periodo di emergenza vengono attivate dai medici di famiglia per eseguire interventi nelle case dei pazienti affetti da Covid. Nelle Marche, ha detto l'assessore, dai 19 equipaggi delle USCA del mese di ottobre, siamo passati a 34. Dati alla mano, in totale sono stati registrati oltre 20.000 casi trattati. Di questi, più di 13.000 riguardano gli over 65. Inoltre, da novembre, sono stati assunti 430 infermieri a tempo determinato, 36 medici, 38 assistenti sanitari e sociali, 55 tecnici della prevenzione, radiologia e di laboratorio, e poi 11 operatrici sanitari. E adesso ci occupiamo dei cinema. A Pesaro, nelle sale del Loreto e della Solaris, verranno proiettati due film gratis per festeggiare la ripartenza. Il mondo del cinema riparte. Qui a Pesaro, al momento, saranno in due a riaprire il cinema Loreto e il cinema Solaris. Ovviamente lo faranno nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Il film all'ora dell'aperitivo, riaprono i cinema, pur adeguandosi ai tempi del coprifuoco, proiezione alle 19, nel weekend anche alle 16.30. A Pesaro, la sala del Solaris ricomincerà domani, mercoledì, e quella del Loreto, giovedì. Una riapertura che avrà una formula particolare, perché dopo esser stati chiusi sei mesi, la prima giornata di programmazione sarà offerta al pubblico gratuitamente da entrambi gli esercenti e con una proiezione di film a sorpresa. Ingressi fine ad esaurimento sala, ovviamente contingentati per via delle normative anti-Covid, oltre ai cinema ripartono anche i teatri e le sale concerto. Le regole saranno uguali per tutti, posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l'uno dall'altra. Capienza massima consentita del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e mille all'aperto. Il cinema riapre in tutta la sicurezza possibile, continuiamo con i posti contingentati, continuiamo con la mascherina anche in sala durante lo spettacolo, quindi è la cosa importantissima di non togliersela e speriamo che vada tutto bene, quindi noi ce la mettiamo tutta. E poi ripartiamo con Minardi, che è stato un film premiatissimo all'Oscar, con Mank, che è stato presente alla premiazione, e con Lezioni di Persiano, che è un altro film importante, che è stato premiato alla Berlinate, che sono un po' il nostro genere di film. Apriamo con questo film di sorpresa che comunque sarà sempre sulle nostre linee. C'è tanto entusiasmo dopo mesi di chiusura? Tante lacrime! Mi sono fatta tutti gli Oscar piangendo, mi sono fatta l'apertura del Beltramme a Milano piangendo, perché per noi è un'emozione unica poter ritornare qua, perché lo facciamo. È vero, è un lavoro, ma è anche tanta passione. Regaliamo questa opportunità alla nostra cantela. Da venerdì con Nomadland, gli spettacoli saranno infrasettimanali sempre a orario di aperitivo, quindi alle 19, visto la misura forzata del 22, e i festivi e i prefestivi replichiamo anche alle 16.30. L'accesso alla sala è monitorato l'ingresso con la scansione della temperatura corporea, il nominativo che viene lasciato e mantenuto da noi per 14 giorni. I distanziamenti erano già stati prestabiliti. Per fortuna la sala Loreto dispone di una capienza abbastanza importante, quindi cercheremo di accontentare tutti quanti. Importante è rimanere sempre con la mascherina, almeno chirurgica, per tutta la fruizione della sala. Per chi non fosse munito daremo noi il dispositivo in omaggio per poter entrare e accomodarsi liberamente. Non apriranno invece le multisala del Metropolis e del Luci. Massimiliano Giumetti annuncia. Saremo pronti per la fine di agosto e partiremo anche con il cinema all'aperto. Ci stiamo lavorando ma abbiamo deciso di attendere. Massimiliano Giumetti, titolare con la famiglia delle multisala, del Metropolis e del Luci, fa un bilancio degli ultimi mesi e annuncia i progetti per la prossima estate. L'ultimo film, ricorda l'imprenditore, è stato proiettato al 25 ottobre dello scorso anno, poi la chiusura e ora altri limiti, tra cui il coprifuoco alle 22, la mancanza di pellicole e il divieto di riaprire il bar all'interno. Noi pensiamo alle multisale che erano già avviate in quel periodo lì, quindi quelle che abbiamo in Romagna e in Toscana e per l'intorno a fine maggio. Le altre a seguire, penso, dovremmo essere pronti con tutte le multisale, comprese Fano, verso la fine di agosto, nel periodo back to school e inizio di settembre, quando ricomincia la stagione cinematografica, anche perché il problema più grosso, di la verità, sarà la mancanza di film. Adesso ci avviciniamo a un periodo, naturalmente, che non è proprio il periodo migliore per il Cino. Lunedì e martedì prossimo, te lo dico in anteprima, avremo una riunione online, anche quella, per far vedere i listini con le date di uscita dei film, le proposte e dopo di quello decideremo. Il danno economico è stato ingente? Il danno economico è stato più che ingente. Noi, la nostra azienda, tu sai che siamo un'azienda a livello familiare, la perdita è stata intorno al 97%. E quel 3% che manca a raggiungere la totalità sono stati quei pochi mesi di apertura, naturalmente. I cinema e i teatri, prosegue Giumetti, sono tra le categorie più colpite dallo Stato, poi sono arrivati pochi aiuti. Lasciamo perdere. L'unico aiuto economico è la cassa integrazione per i dipendenti, i ristori purtroppo noi richiediamo di una fascia di reddito, non di reddito, una fascia di fatturato che non è compresa nei ristori, quindi sembra che ci sono delle regole che sono proprio ridiche. Una perdita totale in questo caso. Una perdita totale, sì. Per il Metropolis di Pesaro stesso discorso, se ne riparla più avanti? Il Metropolis è la multisala, la multisala Torraccia, davanti al Palace, sicuramente saranno riaperti un po' più avanti. La multisala probabilmente prima del Metropolis con anche delle innovazioni a livello di sedi, di poltrone, molto interessanti. Cerchiamo sempre di essere innovativi, lo saremo anche in questo. Per quanto riguarda invece il cinema all'aperto, state pensando di programmare qualcosa anche all'Arena BCC? Sì, sì, sì. L'esperienza con Gino insieme a Carmel, dei cinema della comunità, è stata molto positiva, a prescindere dai numeri. Intanto già quando si collabora per certe cose, per me è importante conoscere persone nuove, soprattutto come Gino, che sono vulcani in eterna eruzione. Voglio dire, sono quelle persone dinamiche che mi piacciono tanto e mi stimolano ancora a farlo, quindi ci lavoreremo, anche perché il cinema all'aperto è un prequel di quello che sarà poi dopo la stagione cinematografica, e quindi dovremmo accompagnare il pubblico a ricominciare a soffrire del cinema avendo la doppia possibilità. Mi auguro che la situazione pandemica possa migliorare, ha concluso Giumetti. In ogni caso al cinema la sicurezza è garantita, detto dal distanziamento all'interno, al ricambio dell'aria mediante la ventilazione forzata fino alle uscite separate. Se migliora la situazione, i vaccini aumentano, sicuramente andremo in conto a una tranquillità nella grande stagione cinematografica. Nel fine settimana sono proseguiti controlli sulle norme anti-covid da parte delle forze dell'ordine. Nella provincia di Pesor Urbino da venerdì a domenica sono state controllate più di 1.400 persone, sono state elevate 101 molte. Verifiche anche in 482 attività commerciali, riscontrati due illeciti. Ed ora torniamo a parlare degli scavi archeologici a Fano, perché oggi sono stati annunciati gli esiti delle indagini. Dagli studi è arrivata la conferma che sotto il complesso di Sant'Agostino c'era un Tempio della Fortuna. Il prossimo servizio è stato curato da Filippo Pucci. All'interno dell'ex Filanda, nel centro storico di Fano, è stato presentato questa mattina l'esito delle antiche tracce del Teatro Romano. Con queste ricerche si è arrivati fino ad una vera e propria pianta dell'imponente Tempio della Fortuna, i cui resti si conservano sotto il complesso di Sant'Agostino e che in qualche modo si collegava con il teatro stesso. Ad annunciarlo è la Soprintendenza delle Belle Arti e Paisaggio delle Marche. Questa indagine, ha detto la Soprintendente Marta Mazza, è stata decisa e concentrata con lo scopo di conoscere e documentare l'importante monumento per spettacoli di età romana e approfondire anche le conoscenze sulla storia monumentale e urbanistica della città in quel tempo. Non si tratta di una campagna archeologica qualunque, aggiunto, ma di una ricerca connessa alla progettazione stessa. Soddisfatto, invece, il sindaco Seri che ritiene questo progetto uno dei più importanti e strategici a matrice culturale dell'amministrazione. C'è la conferma di un grande tempio, di dimensioni grandi che nella nostra regione non ce ne sono di riferimento di queste dimensioni e quindi la dimostrazione del ruolo che la Fanno in Fortuna svolgeva nel periodo romano. Detto questo, il nostro obiettivo è quello della valorizzazione. Ovviamente, questo è un passo propedeutico a quello che sarà in futuro, cioè quello di rendere visitabili questi scavi anche a cominciare da questa estate. Quindi ci stiamo adoperando in questo senso ma soprattutto lavorando anche su quello che dovrà essere la riqualificazione di questo stabile che si tratta di un caso di archeologia industriale che si abbina con l'archeologia romana. Quando i comuni alienavano i beni, ha giunto poi il primo cittadino, noi siamo andati in controtendenza acquistando questa struttura unica elencati anche i prossimi interventi Stiamo andando avanti con la staticità, l'analisi di staticità di tutta la struttura e stiamo lavorando con le migliori competenze a livello nazionale per arrivare al concept per poi fare un concorso di idee internazionali come abbiamo fatto già per il parco e per il waterfront per poi arrivare alla realizzazione di questa riqualificazione di questo grande contenitore culturale che sarà di grande attrazione. in regione è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici l'impegno di spesa complessivo degli interventi ammonta 121 milioni 700 mila euro in particolare per la provincia pesarese sono previsti più di 21 milioni tra gli interventi rientrano la manutenzione dell'alveo e la sistemazione degli argini di alcuni fiumi tra cui il metauro ma anche la ciclovia turistica del Foglia e la ciclovia Pesaro-Vallefoglia poi la realizzazione del ponte ciclo pedonale sul fiume Cesano il bike park del Monte Feltro e la sistemazione dell'ex genio civile nel comune di Pesaro l'ambito sociale 6 ha attivato il progetto sul dopo di noi in due nuovi appartamenti a Gimarra di Fano andranno ad abitare quattro persone con disabilità grave vede la luce il progetto Solimai attivato dall'ambito territoriale sociale 6 in base alla legge nazionale sul dopo di noi nel percorso di coprogettazione è stato firmato un patto di sussidiarietà insieme alla cooperativa sociale Labirinto che è il soggetto capofila di un'associazione temporanea costituita con la fondazione Noi Domani di Pesaro l'associazione Onfalos e la cooperativa sociale Gio di Fano il progetto riguarda la realizzazione di soluzioni abitative di tipo familiare con spazi comuni sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone che soffrono della stessa condizione e per rispondere a questa esigenza sono stati messi a disposizione due nuovi appartamenti nel quartiere di Gimarra mentre i beneficiari sono quattro persone con disabilità grave residenti nel comune di Fano che hanno aderito negli anni passati ad un avviso pubblico è stato poi pubblicato un altro avviso per individuare un quinto beneficiario a causa di una rinuncia quella di accompagnarli con degli interventi quindi con vere e proprie soluzioni abitative al percorso che poi li condurrà al distacco prima o poi con i propri familiari quindi appunto dopo di noi e sono soluzioni abitative già individuate sono due appartamenti uno da due e uno da tre posti nella nuova l'utilizzazione di Gimarra sono già disponibili e nel frattempo però sono stati anche previsti degli interventi delle attività propedeutiche proprio per acquistare maggiore consapevolezza e una nel limite del possibile più autonomia in quello che viene nominato invece il durante noi quindi veri e propri laboratori e attività di inclusione questo nei locali invece in un complesso che viene riqualificato a Rosciano nella strada che porta a Montegiove il progetto dura 15 mesi è un progetto importante perché io credo che davvero con questa legge con la legge sul dopo di noi sia davvero una vera e propria conquista di civiltà perché permette a persone con disabilità grave di non essere lasciate sole anche poi quando non ci saranno più i propri familiari ed è questo il senso che vogliamo dare anche come ambito cioè il senso di trasmettere di diffondere e creare senso di appartenenza e dare una dimostrazione concreta di vicinanza per le persone più fragili il sindaco di Fano Massimo Serri non ha partecipato alla commissione di garanzia e controllo che ieri si è riunita per parlare della fusione tra Aset e Marche e Multiservizi un'occasione persa ha detto Scopelliti della Lega perché si poteva chiarire una volta per tutte la posizione e la volontà del primo cittadino Scopelliti una riunione senza il sindaco di Fano Massimo Serri sì una riunione importante per la città una riunione al quale la commissione garanzia e controllo era stata invitata si è giustificato ma io fino all'ultimo come presidente della commissione garanzia e controllo ho sperato che rinunzasse all'impegno improvviso che ha avuto e partecipasse alla commissione era però presente il presidente della provincia Paolini qual è invece la sua opinione? ecco ripeto l'opportunità per il sindaco di Fano Serri era quella di confrontarsi con il presidente Paolini in quanto il presidente Paolini è fautore di una soluzione inelluttabile secondo lui che vede la fusione di Marche Multiservizi e di Aset per garantire il futuro di questa società mentre il sindaco Serri avrebbe dovuto presentarsi e confermare con forza quello che è il risultato dal consiglio comunale cioè il consiglio comunale ha stabilito a maggioranza che Aset debba rimanere una società a capitale pubblico e in house qual è la vostra preoccupazione? la nostra preoccupazione è che nonostante il consiglio comunale abbia dato una direttiva il nostro sindaco dichiari nella stampa che ancora ci siano delle possibilità per valutare la fusione Marche Multiservizi con Aset mentre noi avremmo voluto che in questa occasione fosse ribadito anche dal primo cittadino qual è la posizione del consiglio comunale che ha valore in questo frangente vuole lanciare un appello al sindaco? chiedo al sindaco Serri di dichiarare ufficialmente che cosa vuole fare di Aset e il futuro della nostra città mattinata movimentata al porto della rovere di Senigallia dove un capriolo ha ripercorso il fiume Misa fino ad arrivare alla focce prima di essere recuperato l'allarme è scattato alle 6.30 quando alcuni pescatori hanno visto l'animale aggirarsi tra le sponde del fiume attualmente in secca una volta raggiunta l'area del porto spaventato dalle onde del mare e impossibilitato a uscire per via degli argini molto alti ha cercato rifugio negli spazi frangiflutti dei Moli sul posto sono intervenuti la guardia costiera la polizia locale il servizio veterinario dell'Azur e i vigili del fuoco tramite il nucleo sommozzatori e un gommone si sono avvicinati all'animale e lo hanno recuperato nonostante i suoi tentativi di sfuggire alla cattura il capriolo una femmina adulta sui 30 chili sta bene e dopo le cure veterinarie verrà rilasciato in campagna subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Guarda chi c'è con Sabino Morra che è l'autore del programma ma anche autore del libro TAC io vi ringrazio per l'attenzione e l'informazione torna domani mattina alle 7 con Occhio e Giornale arrivederci